Dopo l'ordinanza antibivaco che tanto ha fatto discutere, altra ordinanza destinata a lasciare il segno da parte dell'amministrazione omeniese. È infatti online sull'albo pretorio il provvedimento che vieta l'accattonaggio e la richiesta di donazioni in denaro anche al fine di segnalare e agevolare le manovre di parcheggio in lungo lago Buozzi ed in particolare di fronte all'ospedale Madonna del Popolo. Non solo, il divieto vale anche all'esterno dei supermercati e esercizi commerciali dove alcune persone con insistenza chiedono denaro o si offrono di ricollocare i carrelli della spesa presso le apposite strutture di stoccaggio al fine di recuperare e trattenere la moneta contenuta. Chi esercita abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardia macchine in base al decreto Minniti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di 1000 ad un massimo di 3500 euro, mentre per i questuanti all'esterno dei supermercati l'ordinanza comunale prevede multe che vengono da un minimo di 25 ad un massimo di 250 euro. La polizia locale e le forze di polizia che accerteranno eventuali casi di accattonaggio sono tenute alla segnalazione del soggetto sanzionato alla prefettura del VGO quando ricorrono le condizioni di presunto riconoscimento della protezione internazionale ai fini delle valutazioni di competenza. Un altro provvedimento per avere una città più sicura ed ordinata che a regolare licenza commerciale può vendere ma basta a parcheggiatori abusivi e continue richieste di aiuto fatte soprattutto a persone anziane le parole del sindaco Marchioni.